In realtà ha prodotto poco per il Munster. Kitley. Laulana per Kiters. Che rientra. Pallone lento. Quattro uomini. A scavare tenuto. Impressionante. La presenza di tutti i giocatori di Tolone sul punto d'incontro. Vorrei sapere i metri di distanza che ci sono. Che sono sicuramente 50. Ma calcia di Lone Armitage. Non Wicks. Si ho capito. Lascia stare. La messa l'abbiamo vista in una partita. Sì. Metto da 55 metri. Che non voleva calciare. Ti ricordi? Non voleva calciare. E poi calcia. Hai visto? Anche lui potrebbe rientrare nei piani di Stuart Lancaster assieme al fratello. L'ultima volta ha giocato con la maglia dell'Inghilterra nel Mondiale 2011. contro la Scozia. D'Ala. Mamma mia che bomba. La distanza c'è. E c'è anche la precisione. D'Alon Armitage. Chiude la grande il primo tempo a Tolone. 18 a 9. Calcio impressionante. Che non è che è arrivato corto. È andato oltre... Oltre l'area di meta. Oltre la recensione. Nel Mondiale 2011 contro la Scozia. D'Ala. Mamma mia che bomba. La distanza c'è. E c'è anche la precisione. D'Alon Armitage.